Aggiungere valore al retail. Abbiamo affrontato questo argomento con un sguardo trasversale. Un sguardo è relativo all'inserimento del retail in progetti dove la componente retail non è la componente preponderante e capiremo come aiuta a creare valore. Questo tema lo abbiamo affrontato con Mireia Rodriguez del gruppo Ross, secondo speaker relativo a quello che il retail sta facendo per se stesso per mantenere o incrementare il valore. Questo tema è stato affrontato con Dino Gandolfi del gruppo Carrefour Properties. Abbiamo affrontato il tema dell'added value nel mondo del retail all'interno di un ciclo di conferenze che si svolgeranno in Lombardini 22 nel corso dell'anno. Grazie. 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 Grazie.